Ciao a tutti, Maurizio per Aten da Isle Barcelona 2022, vorrei presentarvi un prodotto che state aspettando veramente da tanto tempo, il nostro sistema per prenotazioni sale, il nostro room booking system, un pannellino touch da 10 pollici con cui potrete in maniera molto semplice gestire le vostre sale meeting, prenotare facilmente per 30 minuti la vostra sala, quando avete finito fare il checkout in pochi click, compatibile con Office 365, a breve anche con Google Workspace e durante l'anno con Exchange. Cosa più importante di tutte, sicuramente la personalizzazione, potete aggiungere loghi, background, il vostro tipo di calendario, ma nessuna licenza aggiuntiva sarà necessaria. Per maggiori informazioni visitate sempre www.atem.eu. Grazie. Grazie.